Questa è Sky Glass. È molto più di una TV. E cos'è in più? Beh, prende i programmi di Sky delle app e dei canali e li mette uno di fianco all'altro. Così non devo più cercarli in giro? Esatto. Ciao Sky, metti Sonic. Facile, no? Non ci credo. E se non sappiamo che film guardare? Trova a dire Ciao Sky, film romantici. Sì, che sai quanto costa? No, Sky Glass è tua, soli 11,90 euro al mese. Capito perché è molto più di una TV? Chiamaci all'141, vieni su sky.it o nei negozi Sky.